Via, si parte allora, buon divertimento con il Juventus a suolo, la prima giornata della Serie A 2022-2023. Pirardi su traversone in mezzo, attenzione Perin, sottoporta la parata di Mattia Perin sulla spaccata di Grégoire Defrel. Defrel all'altezza di 20 metri può calciare, Defrel! Perin in due tempi fa su il pallone, secondo tiro nello specchio della porta, sempre lui il protagonista, è lo stesso, Grégoire Defrel. Di Maria pronta al cross, in mezzo a cercare McKennie, McKennie si alza di testa frantesi, poi la mette giù, attenzione, quadrato, finta e controfinta dell'undici per Alexandro. Alexandro al traversone in mezzo, attenzione con Di Maria! Ha segnato il fideo, ha segnato la Juventus, 1-0, 26esimo minuto, contropanzo, l'inizio migliore possibile, immaginabile, dell'esperienza con la vecchia signora di un campionissimo come anche il Di Maria. 1-0 per la Juve! Di Maria ancora, Di Maria per Danilo, in mezzo c'è Vlaovic, Danilo dentro il pallone a cercare, Vlaovic! Palla fuori, è arrivato con il destro, è andato in anticipo su Ayan, palla fuori di lato. Fratesi chiama in causa Ayan, che si sganza dalle retrovie, va al turco, vuole calzare, Ayan! Perin! Il volo di Mattia Perin! Di Maria dentro il pallone a cercare Danilo, 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 mette in mezzo verso Vlaovic, si vuole girare, Vlaovic! Palla fuori, grande contropiede, conclusione a lato di Dujan Vlaovic! Alessandro, Alessandro, un arcobaleno dentro a cercare Vlaovic, vuole prendere posizione Dujan, Vlaovic, 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 attenzione, Vlaovic! Tirato giù, calcio di rigore per la Juventus! Il penalty è carterino giallo per Ferrari! Vlaovic! Vlaovic! L'aggancio di Maria, attenzione, può calciare, Di Maria, Di Maria dentro, cercare Vlaovic! Dujan! Vlaovic! Juventus 3, Sassuolo 0! Grande gol di Vlaovic! Sottoporta, con il destro, a metterla dentro! 3-0 per noi! Rovella con calma olimpica, Zaccaria, gran palla questa per Borucci, Borucci capo aperto per Vlaovic, Vlaovic va per la tripletta, Vlaovic, Vlaovic ancora, Vlaovic, sempre lui, Vlaovic, Vlaovic! Palla fuori! Un ira di Dio, Dujan, Vlaovic! Finisce qui, all'Allianz Stadium di Torino, la Juventus esordisce nel migliore dei modi, batte 3-0 il Sassuolo, la magia di Di Maria, al 26esimo, il ricorre di Vlaovic al 43esimo, e ancora la doppietta di Dujan Vlaovic, al sesto minuto della ripresa, primi tre punti in classifica per la vecchia signora, una vittoria molto, molto convincente!